eccoci buongiorno a tutti anche oggi in diretta la pagina facebook young digital per un nuovo appuntamento con i webinar half an hour parto subito presentando il nostro ospite ciao alessio ciao albarto ciao a tutti eccoci alessio pomaro tu sei seo manager a site by site e head of voice technology a voice branding e sei un esperto di voice search che è il tema di giornata adesso siamo anche con baesani siamo entrambi di padova tu lavori in site by site che è una web agency di padova certo web agency fa tante altre cose diciamo marketing agency in effetti è riduttivo parlare soltanto di web agency poi sei anche tu seo manager e non a caso poi se cerchi con te cerco i contenuti di search su google guarda caso ste posizionati un po di impegno ce l'ho messo dai infatti e beh come diceva un vecchio detto ogni scarrafone è bella mamma sola come cantava pino daniele ma ma google non perdona quindi certo il google è più importante quello che dice la mamma certo possiamo dirlo ormai ecco alessio siamo entrambi di padova ma poi ci siamo sentiti perché comunque io avevo assistito a un tuo interessantissimo intervento al web marketing festival di rimini quest'anno in edizione di rimini online quest'anno era in edizione online e anche perché l'argomento di tutto quello che riguarda la parte voice è sempre più come dire preponderante anche tra i marketer è un argomento a mio avviso che ha dei numeri pazzeschi a livello worldwide e anche italiano adesso che però ancora non è così battuto da a livello come dire di comunicativo se non sbaglio e quindi anche voi state facendo un grande lavoro di divulgazione di questo argomento per raccontare meglio soprattutto alle aziende come utilizzare questo nuovo è una nuova dimensione un nuovo canale possiamo chiamare perché parleremo sia di assistenti vocali quindi la parte software sia di smart speaker come stanno avvolvendo quindi la parte hardware e quindi la voice search per i brand diventa molto importante in questa nuova dimensione che ha dei numeri incredibili quindi alessio fate le presentazioni di rito vuole un attimo introdurre l'argomento di giornata quello del voice search poi arriveremo a dettagliarlo con più precisione se c'è qualche domanda da parte di chi ci ascolta ovviamente siamo anche ben disponibili di rispondere in diretta quindi adesso partiamo un po da questo macro concetto della oral attention economy economy o anche economics of attention insomma sono dei termini che delineano cosa sì allora io parto per arrivare a questo parto da un po più indietro diciamo che quella che io quella che a me piace chiamare voice revolution ci mette di fronte a dei nuovi paradigmi uno uno di questi è sicuramente l'ambient computing ambient computing è un termine che inizia a sentirsi sempre più spesso sta diventando mainstream e si può tradurre possiamo possiamo tradurlo in maniera brutale come intelligenza o computer ambientale cos'è l'ambient computing possiamo definirlo come un sistema in cui si fondono insieme hardware software e servizi in un sistema fluido intorno all'utente per supportarlo diciamo nelle sue attività quotidiane sta diventando sempre più mainstream anche perché perché i top player quindi in questo caso google e amazon ne parlano sempre più spesso a tutti i loro eventi e si insomma ci fanno ci fanno vedere in questo modo la direzione verso la quale puntano se oggi cerco un device per fare tutti i servizi quindi cerco il mio smartphone per andare ad accedere a dei servizi probabilmente nel prossimo futuro mi rivolgerò all'ambiente che mi circonda ecco per per avere tutti questi servizi un altro concetto che si sta diffondendo è sicuramente che gli assistenti diventano sempre più personalizzati e proattivi questo avviene grazie anche soprattutto all'enorme quantità di dati che iniziano a diffondersi e che avremo sempre di più quando quando esploderà quello che viene definito internet of things iot il mondo aiuti in questo momento ha un po tra virgolette il freno a mano tirato perché sta attendendo le nuove tecnologie soprattutto il 5g l'altro fenomeno che fa parte di questi nuovi paradigmi è sicuramente quello che hai detto tu ecco ovvero l'ora la tension economy ovvero cosa si intende per ora la tension economy si intende lo spostamento dell'economia dell'attenzione verso i contenuti audio verso praticamente le nostre orecchie per semplificare possiamo dire che per semplificare possiamo dire che sta esplodendo ecco il consumo dei contenuti audio e non è un caso che spotify e apple insieme anche altri player stiano investendo così tanto su questo su questo tema a questo proposito se vuoi volevo farti vedere un paio di studi uno è di canalis e l'altro è proprio è una statistica di spotify non so se possiamo vederla siamo online sì sì ok perfetto allora in questa in questa slide in questo studio di canalis si vedono i device che stanno avendo la maggior crescita in questo momento e come vediamo i primi due device sono sicuramente gli smart personal audio è una nuova categoria che va in pratica sono gli earbuds e le cuffie wireless e proprio gli smart speaker ok l'altra molto interessante è questa questa è la crescita dei degli utenti degli utenti degli utenti mensili su spotify sia quelli a pagamento sia quelli gratuiti spotify che nella chiusura del del 2019 dichiara una crescita su base annua del 200 per cento per quanto riguarda le ore in streaming su podcast quindi stiamo parlando veramente di di forse più che un'esplosione di contenuti audio ecco ecco per questo per quanto riguarda gli utenti chiaramente queste le caratteristiche di queste interfacce di queste nuove interfacce ovvero semplicità empatia velocità magari anche il fatto che fanno risparmiare tempo fa sì che cambi il loro comportamento cambi di fatto l'interazione e questo chiaramente può riflettersi anche nel modo di fare marketing di chi propone prodotti e servizi e nel modo di fare gli stessi prodotti e servizi perché se adesso gli utenti sono influenzati ad esempio per l'acquisto di nuove automobili dall'assistente che troveranno installato all'interno significa che per essere più competitivo un brand deve spostarsi verso questo tipo di azioni ecco è un po' quello che sta succedendo è una bella overview in effetti ho un paio di domande già quindi può essere che anche il lockdown abbia influito in una maggiore digitalizzazione di come dire domestica anche perché magari parlando in giro ho sentito comunque mettere anche a sistema un po' tutti i propri device casalinghi e quindi possa anche aiutare meglio come dire affluire di contenuti a livello casalingo del computer al massimo quello assolutamente online c'è l'ho vista non mi ricordo in che risorsa forse su voice.ai c'era proprio la crescita dei contenuti relativi alle ricette tramite assistente vocale tramite applicazione vocale e sono numeri davvero spaventosi chiudo questa parentesi l'anno scorso al web marketing connect al search marketing connect scusa avevo condiviso alcuni dati sull'utilizzo dell'applicazione di Gello Zafferano e stiamo parlando veramente di numeri impressionanti ecco stiamo parlando di centinaia di migliaia di utenti unici ad esempio nella settimana di Natale ci sono numeri veramente incredibili e c'è anche come dire questa nuova dimensione del voice versus right ci sono cose che fai meglio a voce rispetto a farle con le mani tipo stai facendo da mangiare stai preparando una ricetta ecco che essere anche assistiti nella procedura e come per quanto riguarda i podcast hanno una grande diffusione anche perché si riescono a fare come dire con l'orecchio sinistro esatto e infatti io sono uno io sono ad esempio un runner che amo ascoltare podcast mentre corre quindi questa diffusione del contenuto che riesce ad inserirsi anche in altri momenti mentre si stanno facendo altre cose quindi non bisogna dedicarti col cento per cento della propria attenzione questa oral attention a quanto pare può essere anche un'attenzione un po' laterale sicuramente è un plus di questo tipo di contenuto uno dei plus è quello mi permette di fare operazioni senza avere l'utilizzo delle mani e l'attenzione degli occhi quindi è chiaro che in questo mondo così frenetico può essere molto interessante anche perché non dimentichiamoci di quante ore passiamo in macchina quindi anche quello può essere un canale molto interessante per fare marketing sì certamente che potevano essere prima le ore passate nei trasporti pubblici in epoche di emergenza sanitaria quindi comunque abbiamo altri spostamenti diventa più importante la macchina quindi comunque c'è una nuova geografia anche dei consumi della fruizione dei consumi audio però vediamo che c'è comunque un aumento esponenziale una bella overview secondo me al lato user parlando di dispositivi sia software che hardware arrivando poi alla voice search che è un po' il cuore del nostro webinar e anche della tua attività quindi adesso parliamo di voice search e questa magia come avviene? allora intanto diciamo che oggi per voice search intendiamo la ricerca generica fatta all'assistente disambiguo subito questo perché chiaramente anche la dettatura attraverso un sistema di text to speech al browser può essere identificata come una ricerca vocale di fatto utilizzo la voce per avviare la query però il cambio di paradigma sta proprio nel fatto che chiediamo qualcosa all'assistente vocale quindi l'assistente vocale andrà ad utilizzare i contenuti che ha a disposizione per darci una risposta diciamo che la miglior risposta l'assistente vocale tendrà a darci la miglior risposta in base al device che sta utilizzando l'utente ad esempio sarebbe inutile offrire un video e una risposta se l'utente fa la sua richiesta a Google Home invece il video potrebbe essere molto interessante nello smart speaker oppure nello smartphone Allora, il come avviene la magia è una bella domanda Sì, infatti c'è subito Faccio la paglia perché Grazie, grazie Sicuramente allora cercando di semplificare il più possibile i motori di ricerca utilizzano degli algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale sia per andare a determinare l'intento di ricerca dell'utente e sia per elaborare i contenuti che hai in archivio e quindi per associare quell'intento di ricerca alla miglior risposta ottenere la miglior risposta cioè diciamo offrire la miglior risposta e il miglior contenuto è di sicuro il segreto per ottenere delle risposte relativamente alla voice search quindi è un po' un trucco fatto di olio di gomito e di e di creazione di contenuti di qualità Quindi andando un po' più nello specifico nella parte tecnica quindi un brand magari ti contatta e vuole comunque approcciarsi a questa dinamica o perché ha intuito del potenziale o perché semplicemente ha letto un articolo ha visto un webinar tuo e sia appassionato quindi questa attività si presta più ad alcuni brand rispetto ad altri come ti approcci magari a come rispondi a questo approccio che può avere un brand nei confronti dell'argomento? Allora la prima cosa è di rivelare tutti i segreti del mestiere altrimenti non vale No, comunque la prima cosa che ho a cuore che mi sta a cuore è il fatto che diciamo la voice search per me è riduttivo definirlo come ottimizzare il sito web per ottenere delle risposte vocali ma è più uno sfruttare la voice technology per riuscire a distribuire contenuti quindi diciamo che la domanda da farsi per capire come integrare la voce all'interno dei customer giorni degli utenti è sicuramente il fatto di chiedersi dove possiamo migliorare dei servizi dove possiamo ottimizzare servizi e l'esperienza dell'utente quindi è l'analisi dei customer giorni degli utenti che ci dà questa risposta fondamentalmente e chiaramente come avviene nelle app mobile e in altri tipi di applicazioni web o di altra natura se si riesce ad inserire correttamente nel customer giorni la tecnologia allora sarà un successo qui ci sono poi settori merceologici che si possono prestare maggiormente o anche sicuramente la tua esperienza quali oggi stanno già sfruttando questi queste nuove soluzioni sì allora brand che stanno sviluppando sulla parte voice ce ne sono diversi ad esempio team sta facendo sta facendo moltissimo sta creando veramente un ecosistema ed è diciamo è la prima applicazione che ho visto utilizzare l'account linking ovvero la forma di login dove l'utente può autenticarsi attraverso lo smart speaker fondamentalmente poi ce ne sono molti altri da Barilla a a Starbucks a McDonald's insomma brand ce ne sono tantissimi diciamo noi stiamo lavorando sui settori di GDO quindi grande distribuzione e laddove servono soluzioni per alleggerire il customer service ecco questo questo sicuramente è un il fatto di alleggerire il customer care è uno scusami customer service è uno dei punti più interessanti di questa tecnologia secondo me quindi abbiamo già individuato sì diverse funzionalità tra cui appunto quella del customer service sicuramente quindi offrire sia dei contenuti di intrattenimento che dei contenuti funzionali una migliore esperienza lungo il customer journey sì io sono interessato proprio entrare un po' più nello specifico tecnico anche che cosa dove bisogna mettere mano e come come entrate anche in contatto con le esigenze del cliente e tecnicamente poi come si va ad agire anche immagino sull'ottimizzazione dei contenuti immagino dei contenuti del sito ottimizzati poi per gli smart speaker allora per quanto riguarda sì l'essere presenti sul come risposta vocali si va ad agire sul sito quindi sui contenuti diciamo del sito e quindi lì si va a creare la possibilità di offrire delle risposte vocali laddove ci fossero delle richieste vocali invece per quanto riguarda altri tipi di interazioni ad esempio con gli assistenti allora lì si va a sviluppare delle applicazioni vocali che quindi prendono il nome di Google Action per quanto riguarda Google e le famose skills per Alexa e quindi ci sono vari modi attraverso i quali la voice technology si integra diciamo nel customer journey ecco ci sono diverse modalità queste sono le due principali poi chiaramente ogni agente conversazionale ovvero ogni assistente che è alla base dell'interazione vocale può essere calato su diversi touch point quindi lo stesso agente conversazionale con il quale tu interagisci su Google Assistant poi puoi ad esempio trovarlo al telefono puoi trovarlo in modalità di voice bot e chat bot sul sito eccetera quindi un singolo agente conversazionale con le opportune ottimizzazioni può essere fruito su diversi touch point ok poi un'altra domanda che mi viene in mente magari c'è da non sì ignorando tecnicamente tutte queste dinamiche è capire se poi c'è c'è un tracking di tutte queste di tutte queste attività immagino se l'azienda poi può capire veramente che tipo di interazione c'è stata poi ovvio difficile mettere a regime per calcolare un ROI sulle sul sì diciamo che siamo ancora caldando i motori però comunque ce ne sarà poi da correre si sta già correndo un sito capire se comunque avere un un tracciamento di capire quanto va a impattare magari semplicemente nel customer care assolutamente l'utente quanto sta interagendo con questa nuova funzione assolutamente allora per quanto riguarda la voice search quindi l'interazione con la ricerca generica dallo smart speaker o dall'assistente per adesso non ci sono all'interno di google analytics o comunque di search console eccetera dati relativi a questo il mondo del web si sta un po' c'è molto fermento intorno a questo infatti è una domanda che spunta fuori spesso spunta spesso su twitter verso diciamo le persone esposte di google per quanto riguarda invece le applicazioni vocali c'è un tracking assolutamente preciso di tutto nel senso che ci sono vari modi di tracciarlo le stesse piattaforme mettono a disposizione i tool mettono a disposizione le metriche le dimensioni per andare a capire cosa sta succedendo i flussi eccetera poi chiaramente ad esempio noi abbiamo un nostro sistema custom per il tracking perché deriva da uno stile di sviluppo nel senso se tu ti crei la tua architettura chiaramente puoi andare a fare un tracking più più preciso e soprattutto più centralizzato infatti noi riusciamo ad avere un tracking centralizzato sulle diverse piattaforme quindi se noi abbiamo una skill e abbiamo una google action e abbiamo anche un chatbot o un voicebot sul sito possiamo ad avere delle statistiche che comunicano tra di loro ecco quindi adesso stiamo sperimentando anche noi molto su questo abbiamo sia un sistema di data visualization nostro e sia stiamo utilizzando anche google analytics perché in effetti avete centrato un po' già come dire nelle cose più importanti quindi vi siete creati un sistema vostro per capire per leggere i numeri o anche per interrogare i numeri e avere delle risposte concrete assolutamente e poi la cosa più importante altrimenti diventa un po' sia un gioco fine a se stesso e bello da raccontare magari la domanda appunto sul tracking non ce l'avevamo fatta prima però diventa centrale ed è venuta assolutamente comunque a integrazione di questo gli sviluppi che stanno arrivando diciamo su queste tecnologie sono enormi ci sono novità ogni giorno da questo punto di vista e la settimana scorsa hanno rilasciato ad esempio un nuovo un nuovo pacchetto dedicato all'analytics che c'è dietro quindi stanno potenziando tantissimo le statistiche a giugno ad esempio a metà giugno è uscito il nuovo actions builder quindi hanno rinnovato Google ha rinnovato completamente l'architettura di sviluppo delle Google Action quindi c'è veramente un enorme lavoro dentro da parte dei player quindi diciamo che stanno battendo molto ecco mi chiedo se può essere anche uno strumento come dire di user generated strategy nel senso che anche in base a quelle che possono essere le risposte di utilizzo da parte degli utenti un brand può finalizzare o cambiare una strategia esatto è un po' quello che dicevo prima relativamente al al fatto che cambiano i prodotti il cambiamento del comportamento dell'utente va alla fine a cambiare il prodotto cioè le domande alla fine tutto quello che l'utente chiede all'assistente al brand ambassador diciamo vanno sicuramente a migliorare l'assistente perché se oggi non è in grado di rispondere a una domanda dell'utente con l'opportuno training da domani sarà in grado di rispondere ma quelle domande sicuramente sono utili al brand per andare a migliorare quello che offre perché le domande dell'utente è quello che cerca sui servizi che offre il brand alla fine anche proprio a livello contenutissimo di semantica una ricerca vocale molto più concetta rispetto a una sì e anche lì e anche lì e questo però deriva già ad esempio dalla ricerca interna dei siti ma avere il bot avere il chat o il voice bot all'interno del sito ti aiuta ad ampliare la strategia la content strategy perché alla fine se l'utente fa una domanda io posso sviluppare i contenuti ad hoc sì quindi guarda vediamo che diventa un circolo virtuoso assolutamente a autoalimentarsi quindi non soltanto a dire servizio per l'utente ma anche ricerca da parte del brand per finalizzare al meglio tutti i dettagli su questa customer experience parlando più nello specifico so che ne avevi ne avevi parlato forse anche al web marketing festival di qualche caso vostro di qualche case che proprio avete trattato proprio con la GDO non so se vuoi parlarne con più lo vizio di dettagli però la trovo interessante anche per vedere un'applicazione pratica di quello che abbiamo raccontato certo allora sì per quanto riguarda la case che ho presentato al web marketing festival era sulla GDO e avevo portato un progetto diviso in diversi step a breve andremo live con i primi i primi sono un sistema di gaming e un sistema di volantino avanzato diciamo un volantino intelligente l'abbiamo chiamato per quanto riguarda la parte di gaming è sicuramente molto interessante perché coinvolge l'utente e diventa una sorta di sistema di loyalty per il brand quindi di coinvolgimento continuo dell'utente per tenerlo a contatto con il brand quindi l'utente di queste dinamiche sui dispositivi su qualsiasi allora abbiamo sviluppato la Google Action e la Skillper Alexa ok perfetto quindi su tutti i device dove può che possono ospitare Google Assistant o Alexa ok poi mi vengono in mente delle connessioni continue poi fa anche parte di quello che un brand deve fare cioè comunicare il fatto che è anche presente su questi nuovi touch point per incentivare per incentivare l'utilizzo assolutamente adesso in una strategia di comunicazione assolutamente infatti infatti adesso quando andranno live le applicazioni ci sarà la strategia di comunicazione che coinvolgerà ad esempio l'app mobile e altri e delle comunicazioni nei punti fisici sicuramente va comunicata poi a supporto di questo abbiamo sfruttato anche il fatto che il gaming è qualcosa che fa già parte della community e quindi abbiamo cercato di dare da subito uno strumento con il quale l'utente ha già confidenza quindi diamo un nuovo touch point con uno strumento che l'utente conosce già chiaramente dando contenuti diversi dando contenuti ad hoc per il touch point però comunque con una dinamica che già conosce tutto questo è sempre va ad aumentare chiaramente il feeling immediato dell'utente ecco se non so stiamo interrotto stavi raccontando un po' la case della GDO non so se c'era l'altro l'altro step oltre al gaming è relativo al volantino intelligente con questo tipo di sistema riusciamo a dare agli utenti un audio volantino personalizzato in base ai dati dell'utente perché all'interno degli smart speaker all'interno degli assistenti l'utente può fare login può accedere con le stesse credenziali lo stesso sistema della community e quindi si porta tutte le informazioni tutte le informazioni diciamo tutto il suo storico grazie a questo una profilazione chiaramente legata a un accesso o una login grazie a questo riusciamo a dare proprio le offerte personalizzate a proporre le categorie personalizzate e quindi con maggior possibilità di dare all'utente un servizio migliore quindi il volantino si trasforma da statico e uguale per tutti ha intanto ad un formato nuovo quindi ad un formato audio fruibile come un podcast perché l'utente può tranquillamente poi chiudere l'applicazione e continuare ad ascoltarlo come un podcast e personalizzato quindi è questo quello che stiamo cercando di portare poi il progetto ha anche altri step ad esempio la spesa intelligente quindi un assistente che ti supporta nella creazione della lista della spesa sicuramente supporto ai customer service eccetera insomma ci sono altri diversi altri step che fanno parte di questa case poi ne stiamo facendo anche un'altra molto interessante relativa all'assistenza quindi stiamo creando un chatbot evoluto per un'assistenza tecnica molto specifica molto tecnica e quindi questa è una case che ha come obiettivi quella di sicuramente alleggerire il customer service ma anche di fare formazione interna perché avendo a disposizione le informazioni tramite un chatbot chiunque può riuscire a fare un'assistenza magari prima solo la persona specifica riesce a dare certi tipi di informazioni se io ho un chatbot a disposizione che posso interrogare anche io posso riuscire a fare l'assistenza ecco quindi qua mi dai anche un po' come dire la visione che non si tratta di dinamiche legate soltanto al B2C però potrebbero essere legate anche al B2B più tecnico questo è B2B è proprio B2B sì era abbastanza palese ma hai fatto diventare interessante per ampliare anche il raggio d'azione e le potenzialità sì e soprattutto la visione la visione di vederlo non solo come uno strumento per il cliente ma anche uno strumento interno perché diventa un sistema che posso utilizzare per cercare le informazioni e ad averle immediatamente se prima devo aprire tre manuali per andare a capire cosa sta succedendo digitalizzando il tutto e rendendolo disponibile sotto forma di bot posso posso fare una domanda con linguaggio naturale e ottenere degli step successivi che mi guidano nella risoluzione del problema sì come tante altre sono tecnologie abilitanti in primis non soltanto nei confronti del rapporto azienda consumatore ma anche nel rapporto come dire nelle dinamiche aziendali stesse migliorando qualsiasi tipo di dinamica aziendale andando a parlare anche sulla qualità del lavoro sui costi eccetera eccetera quindi abbiamo ampliato ancora di più il raggio d'azione ci vorrebbero un altro paio di webinar poi per nello specifico di queste cose l'ultima domanda alla quale abbiamo già un po' risposto perché alla fine si parla comunque di visioni sviluppi evoluzioni c'è qualcosa che ti senti un attimo di pronosticare per l'immediato futuro sia per la tua attività che per il settore in generale dove stiamo verso dove ci stiamo muovendo beh altra domandona da un minore di sicuramente si aprono molte opportunità per i brand e quindi noi andremo ad accogliere queste andremo ad accogliere e ad accompagnare i brand verso queste opportunità opportunità di avere un nuovo canale di estendersi al mondo audio e quindi di distinguersi su un altro tipo diciamo tra virgolette di campo da gioco e di gestire i nuovi dati che derivano da questa nuova esperienza quindi questa è la nostra direzione e il nostro obiettivo e quindi insomma il consiglio possiamo dare è di restare sintonizzati un po' anche sui canali i tuoi giornalmente seguo anche tutti gli aggiornamenti che ci dai ed è veramente molto interessante e le visioni veramente sono le visioni sono cose concrete che si stanno delineando ti dico una curiosità sui miei post escono talmente tante novità tutti i giorni che a volte devo anche scegliere quindi non è uno sforzo quello di andare a prendermi contenuti e quindi per tenere vivo il feed ma è proprio questione di novità continue che si susseguono e anche come fulmine c'è il sereno per dirti la novità che è la bomba che ha sganciato Google a metà giugno circa ovvero quella dell'action builder l'ha fatto in concomitanza perché erano presenti a un evento ma è stato davvero un fulmine al sereno hanno stravolto lo sviluppo delle Google Action da oggi a domani è uscita la news di notte perché chiaramente è per i fusi orari e alla mattina ho trovato un mondo nuovo praticamente che è sconvolto in posizione spero cioè dandosi allora sono due modi attualmente coesistenti di sviluppare però diciamo sono due filosofie diverse e molto interessanti entrambe ovviamente noi siamo già sul pezzo su entrambe quindi dobbiamo solo scegliere sì 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 no immagino anche la complessità anche di questi aggiornamenti che possono farvi cambiare anche dall'oggi al domani magari delle proslittive a questo siamo preparati perché essendo una tecnologia veramente in evoluzione in forte evoluzione questo è l'ordine del giorno quindi può succedere lo sappiamo però siamo pronti perfetto ebbene adesso quindi ne abbiamo già raccontati un sacco siamo stati bravi poco più di mezz'ora a condensare un po' tutto quanto perché l'argomento è veramente quanto mai innovativo se ne parla ancora poco in generale rispetto agli altri argomenti anche perché abbiamo visto la complessità che c'è dietro ma anche le strade che si sono già aperte e si stanno aprendo quindi non aver paura delle complessità ma anzi in mezzo a queste complessità si trovano veramente a volte delle strade inedite e proprio per questo ancora poco esplorate ma funzionali e che possono dare grandi soddisfazioni e già lo state testando e quindi adesso magari sarebbe bello riaggiornarci tra qualche mese con qualche altro appuntamento io spero anche dal vivo così arrivo a dire che si ritorna a vedere questo rispetto al solito assolutamente e sicuramente anche per noi come dire stavo dicendo ti terrò d'occhio no ti terrò d'orecchio ecco ricordate appunto la oral attention certo bene Alessio io ti ringrazio ancora per averci condiviso comunque tutto quello del vostro lavoro è che è molto più di quello che si c'è là dietro questa mezz'ora abbiamo fatto grande sintesi però abbiamo toccato un po' le milestone principali anche per raccontare a chi a chi non conosce o a chi si sta cominciando ad approcciare a questo argomento o a chi magari come è successo a me ne legge però poi bisogna andare a fondo delle cose sì sì è molto è un argomento molto tecnico e mi rendo conto a volte che la difficoltà è proprio il fatto che i touch point sono tanti e quindi è anche complesso perché copre moltissimi moltissimi dettagli ad esempio prima parlavamo di ricette poi giuro chiudo le ricette sono un esempio di passaggio ad esempio dall'esperienza dalla voice search fino all'assistenza con lo smart display ad esempio perché non so se hai notato ma se tu hai uno smart display in casa nella tua smart home quando tu fai una ricerca su Chrome o sull'app di Google da smartphone ad esempio vedrai che c'è un nuovo bottone nei risultati di ricerca che si chiama cucina con lo smart invia smart display oppure cucina se lo fai da allora invia smart display se lo fai da Google da scusami da Google assistant su smartphone mentre cucina lo trovi su browser se tu fai tap sul bottone e poi inizi l'interazione con lo smart display proprio quella ricetta alla quale eri interessato diventa pronta sullo smart display e l'assistente è pronto a seguirti passo passo sulla preparazione quindi questo è proprio il flusso tra una ricerca generica fino all'interazione su un altro device con con l'assistente poi se tu provi un altro ponte fantastico di questi passaggi è se tu fai una ricerca generica allo smart speaker tipo se hai Google Home fai una ricerca generica vedrai che poi ti arriva una notifica push sullo smartphone che ti ribadisce il risultato e ti permette di navigare questo cosa significa? Significa che le sessioni di ricerca vengono diversificate ancora perché se io faccio una ricerca dall'auto poi mi arriva una notifica push alla sera sono sul divano apro le notifiche magari faccio l'acquisto quindi vedi come le dinamiche si si modificano mutano ed è bellissimo così sì sì perché poi c'è un'ottimizzazione come dire per gli obiettivi da parte dei brand e una soddisfazione da parte dell'utente di vivere questa experience in maniera soddisfacente su una cosa che poi è stato lui ad innescare sì esatto di advertising di logic che push ma di sì sono diciamo che la dinamica è un po' quella del future snippet quando fai le ricerche ti do la risposta e dopo ti do la possibilità di avere un link per approfondire questa è la traduzione dal punto di vista dello smart speaker ti do la risposta vocale poi ti do anche un push per approfondire dopo e magari tu converti dopo mi sembra stata un'ottima maniera anche per concludere perché abbiamo un po' fatto anche sì un sunto con questi esempi del valore dell'impatto dell'efficacia di queste nuove tecnologie nell'esperienza utente ma anche nella vita di tutti i giorni certo e comunque anche la tecnologia è diventata volentino un'estensione anche del nostro corpo sì infatti i nuovi device gli indossabili e gli Rables sono proprio ci stiamo arrivando molto vicino ecco all'estensione ok quindi detto questo appuntamento alla prossima puntata perché avremo ancora e anche di nuove perché poi immagino magari ad agosto può capitare che spegniamo un po' di più i nostri device per starcene a riposo in vacanza però nel frattempo la tecnologia corre e le soluzioni si moltiplicano eh certo adesso grazie ancora perché hai contribuito anche tu anche ad arricchire un po' il nostro progetto webinar half an hour anche con una dimensione tecnologica su un argomento da voice search che non c'era prima abbiamo parlato di sound branding di branded podcast eh ma fa tutto è tutto sono tutte parti vedi come quanto è vasto l'argomento infatti il sound branding come vedi i brand pubblicano continuamente come hanno cercato e come hanno trovato il loro sound logo sound logo che l'applicazione vocale è proprio perfetta per inserire il sound logo il podcast sarà su tutte le diverse estensioni di questo mondo audio mi viene da dire anche le dinamiche podcast hanno alfabetizzato un po' di utenti all'utilizzo anche dei device perché ogni scusa non si sa quale quando si innesca qualcosa poi è difficile andare a prendere cosa cosa è stato l'innesco diciamo finale beh hai ragione non si può non si può determinare magari lo dico mai personalmente mi trovo magari ad approcciare degli strumenti o a mettere o a fare un setup casalingo e extra casalingo ma anche della postazione di lavoro dell'auto o di altri ambienti in base a un'esigenza primaria e poi ovviamente diventa facile avere tutte le assolutamente anche da smart tv marino la prende per avere netflix lì pronto e poi comunque ci trova un sacco di altre di altre funzioni bene adesso non concludiamo più però che cosa è bello ci sono sempre cose interessanti e quindi ti attacchiamo ti stiamo andando avanti a profusione io ti ringrazio ancora adesso perché è davvero stato molto molto interessante ovviamente ci terremo ci terremo in contatto e adesso avremo modo spero di ritornare sia su questi schermi che magari anche fisicamente a qualche volentieri un saluto a te a quelli che ci hanno ascoltato domani 12.30 altro webinar sul sito Falfenauer è a disposizione anche questo video o sulla nostra pagina facebook anche per vederlo per rivederlo o per chi non è riuscito a collegarsi in tempo o per chi non l'ha visto questo come tutti gli altri video precedenti adesso un saluto ancora e una buona giornata a te e a tutti quanti bene ciao Alberto ciao a tutti grazie